Quanto sangue è verta, linfa espressa, inversi, inchiostro sul foglio e getta E racconta eventi in questi tempi persi troppo in fretta La vita è una matita che si spezza, sciolgo il nodo in gola, sputo e rotto Pronto? Pronto? Pronto, ciao, sono Massino Oh, bella, come va? Bella, tutto bene, te? A posto, solita sbatta Ok, senti, mi hanno chiamato i ragazzi di Repark Ah sì, grandi, grandi, i miei amici Gabri, Fat Family, 47 Rolling Sì, esatto, proprio loro Mi hanno chiamato per contattarti e chiederti se ti va di fare una serata Dimmi tutto Ok, allora, senti, la roba si svolge ad Abbiategrasso, nell'abbazia sconsacrata Ah, è il mio ambiente proprio Sì, sì, maledetto, bella, sei un gran svegliato Sì, sì, guarda, è una roba carina C'è la mostra dei pezzi di Keone, il Writer Fanno una scenetta a chilometro zero Oh, perono, vai, che porto tutta la truppa a sbaffare No, no, ascolta, vai piano, vai piano, truppa Che i posti sono limitati e bisogna prenotare Ah, ok, va bene, ma cos'è che devo fare, di base? Fammi capire Eh, niente, in pratica, Mastino racconta Mastino Cioè, devi venire a parlare di me Che senso, scusa? Sì, nel senso, vieni lì, io faccio il rap e poi tu parli dei pezzi che io ho appena fatto Ma cosa? Ma se i rap li ho scritti io, li faccio io, no? Eh, va bene, ma donna, come te la meni, oh? Cioè, alla fine siamo così amici che è come se li avessi scritti io, no? Sì, sì, vabbè, ho capito Ma te fai i tuoi rap e parli dei tuoi rap Io faccio i miei e parlo dei miei, non ho capito? Eh, che ferma l'osso, va bene, va bene Oh, basta che non fai così poi quando il pubblico ti fa le domande Sì, a posto, sia, cosa c'entra le domande del pubblico? Cioè, mica mi fregano le rime, l'oh? Eh, fregano, fregano, cosa freghi? Cioè, una citazione Sì, citazione, ma quando è la faccenda? Eh, sarebbe il 26 di ottobre Ok, va bene, ci sono, però, patti chiari, io faccio il mio, te fai il tuo Sì, dai, 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 va bene, va bene Però va bene Bella, bella Idiota, buone